Roberto Scarmigliati, voi di Fratelli d'Italia, segnalate la situazione di Incuglia, che c'è a Largo Galli, ci spiega la situazione? Sì, quale collaboratore del circolo Giorgio Almiranti di Fratelli d'Italia di Civitavecchia, ho preso l'incarico di segnalare questa ed altre zone. Nel caso specifico ci troviamo qui in via Largo Marco Galli, dove dal 2013 chiedo che vengano installati dei cartelloni di segnalazione per levare questa confusione con la macchina, far sistemare il sedime stradale perché è pieno di buche e poi togliere tutte queste erbacce e riammodernare, rifare in un modo dignitoso quell'area a verde. E' un'area questa qui che collaborai come consigliere di circolcrizione nel 2004 a rimetterla a posto, c'era un cantiere che era fallito, che doveva fare i lavori, abbiamo rimesso a nuovo tutto questo cosiddetto. Ora, vederlo in questo stato pietoso, dove c'è confusione, degrado, e questo qui mi dà fastidio. Poi volevo segnalare la ringhiera che porta alla ferrovia, che non vede un filo di vernice da 20-30 anni e in alcune parti, come avete visto, è rotta. E così come viale Garibaldi, abbiamo un viale Garibaldi che è, diciamo, sozzo, sozzo, dai gelsi per terra, le panchine che non vedono il coppale da quattro anni. E quindi questa amministrazione, dopo quattro anni, si rende conto che qui in questo viale ci passano, ci transitano migliaia di passeggeri che vengono dalle navi, che vanno sulle navi, cittadini. Siamo una città allo sbando, quindi abbiamo preso iniziativa a denunciare queste inefficienze, iniziando da qui.